C'è raggiunto un punto di frenata ottimo in tutte le condizioni. La uscita della curva, la trazione viene trasferita molto bene, grazie a questo differenziale molto molto lavorato. Sempre tutte le Ferrari sono famose per la sua potenza, la sua bellezza estetica e poi per il rumore che è già sexy solo da sentire una Ferrari. Grazie.